Ehi tu, parola tu, che ti stai annoiando, rilassati qui con me e cerca di combattere la noia. Ti farò ascoltare qualche trigger, qualche suono, che sicuramente non ti farà annoiare. Anzi, cercherò di prendere la tua attenzione e di uccidere la noia. Ehi, con te. MIG TOPPING hai ragione potrei fare qualche altro trigger MIG TOPPING MIG TOPPING MIG TOPPING MIG TOPPING MIG TIP MIG TIP ma sei una persona pretenziosa per quanto riguarda il trigger da ascoltarmi MIG TIP 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 MIG MIG TIP Grazie a tutti Prova a fare tu qualche trigger del genere Con questo bisogna mettere un po' più di forza Divertente, no? Ok, adesso è il momento del relax Guarda lo serio Ecco Per evitare di annoiarti Potresti anche leggere qualche libro Questo qui è quello che ti consiglio Se tu hai mai letto bucoschi Comunque Potresti iniziare Per evitare di annoiarti Oh no Per evitare di annoiarti Per evitare di annoiarti Per evitare di annoiarti Sì Keep rolling con questi trigger che saltano fuori, vediamo cosa può succedere adesso Alla prossima Alla prossima Anche questo mouse può diventare qualcos'altro, che ne pensi? Alla prossima Però ho anche bisogno di scrivere qualcosa, prendere qualche punto riguardo ai trigger Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima It's ok, scrittura fatta E mo' Vediamo se riesco un attimo da rilassarti con qualche mouth sound e con qualche hand movements Alla prossima Alla prossima Non è troppo veloce Non è troppo veloce Anzi, se vuoi, posso creare un attimo la calma Quella super intensa Vediamo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo so, il tempo sta roventando. E quindi, dalla noia, stai passando verso il lato del sonno. Allora ti posso far ascoltare un altro trigger, l'ultimo trigger. Allora. 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 Passa una bella giornata. E dormi bene. Resta nel cielo. Allora. 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 Allora.